Coronavirus. Attuiamo un comportamento responsabile. Io resto a casa. Un sacrificio necessario fino al 3 aprile. Mantieni un metro di distanza dalle persone. Se hai la febbre sopra i 37 gradi e mezzo, non andare al pronto soccorso, ma chiama il tuo medico di famiglia. Non puoi muoverti al di fuori del tuo comune. Sono concessi gli spostamenti solo per motivi gravi di salute o per lavoro. Anziani ed immunodepressi devono obbligatoriamente rimanere a casa. Si può fare la spesa, ma solo una persona per famiglia. Si può uscire per una passeggiata, ma in zone non affollate. È possibile muoversi per prestare assistenza ad anziani e persone non autosufficienti. Bar, gelaterie e ristoranti sono aperti solo fino alle 18. I grandi centri di vendita sono chiusi nei giorni festivi e prefestivi. Pub, cinema, palestri, piscine, discoteche e musei sono chiusi. Sono vietate le riunioni, gli eventi e le manifestazioni in genere. Vogliamoci bene. Il rispetto di queste regole è per il nostro interesse comune.